L'incontro con la parlamentare del Partito Democratico, Simona Bonafè, ospite dell'Associazione Big Bang Molise, apre la campagna elettorale in vista delle primarie dell'8 dicembre prossimo. Illustrato a Campobasso il programma quadro di ricerca e innovazione che prevede numerose opportunità per le piccole e medie imprese. Boccata d'ossigeno in arrivo per le imprese della provincia Pentra dall'ente di via Berta a 900.000 euro per saldare le fatture del 2012. Ai domiciliari due giovani del capoluogo che la scorsa notte hanno tentato di estorcere denaro al titolare di uno degli esercizi commerciali di via Ferrari. All'Ancellotta Isernia Termoli, Boiano, ospita la Vispesaro. Trasferta invece per l'Agnone con la Iesina, in eccellenza 4 gli anticipi, su tutti spicca la trasferta del Fornelli a Pozzilli. Domani il Campobasso ospita il Fanalino di Coda Montaquila. Ben trovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito nei titoli. In apertura c'è la pagina politica perché entra sempre più nel vivo. La stagione congressuale del partito democratico in un contesto politico e sociale estremamente delicato in cui è stata confermata la fiducia al governo Lette. L'aggiunta per le elezioni del Senato ha votato per la decadenza di Berlusconi per avviare il dibattito sui temi. Di maggiore sensibilità per la vita del PD l'associazione Big Bang Molise ha invitato in regione l'onorevole Simona Bonafè. Vediamo. A circa due mesi dall'8 dicembre, data questa in cui si terranno le primarie del Partito Democratico per scegliere il nuovo segretario nazionale, l'associazione politico-culturale Big Bang Molise del sindaco di Riccianon che è candidata alla carica di segretario regionale del partito, Micaela Fanelli, ha dato il via alla campagna elettorale invitando in Molise la parlamentare Simona Bonafè, portavoce del sindaco di Firenze Matteo Renzi. Tra volti noti della politica locale ad accoglierla, oltre alla stessa Fanelli, la parlamentare molisana Laura Vennitelli, il governatore Frattura e il sindaco di Isernia Luigi Brasiello, tutti a sossegno del giovane Renzi. Senza alcuna remora, la Bonafè ha voluto parlare di quello che sarà un congresso rifondativo per il partito. È un congresso assolutamente importante e rifondativo per quanto mi riguarda, anche perché il partito democratico che abbiamo avanti oggi è un partito democratico che in qualche modo ha fallito la sua sfida, perché non ci dimentichiamo che abbiamo perso le elezioni, abbiamo perso i lettori, abbiamo perso i scritti, per cui sicuramente così non si può continuare e il congresso è un'occasione per ripartire. La parlamentare del PD poi alla vigilia della decadenza del Cavaliere non ha mancato nemmeno una stoccata per il centrodestra, soffermandosi su quella che sarà una nuova pagina politica post-Berlusconi. Penso che il problema non sia Berlusconi oggi, il problema sia quanto questo governo è in grado da qui in poi di dare le risposte di cui abbiamo bisogno in Italia ormai da troppo tempo. Io penso che la fase post-berlusconiana inizierà solo quando riusciremo anche a questo governo come partito democratico, riusciremo ad essere più incisive a portare a casa le riforme riformiste di cui da più tempo questo paese ha bisogno. Tenete presente che ieri abbiamo approvato il decreto cultura, nei prossimi giorni arriverà in Parlamento il decreto sulla pubblica istruzione e questi intanto sono segnali importanti perché sono segnali che dopo tagli indiscriminati e lineari degli ultimi governi vanno a investire su due settori trainanti per lo sviluppo di questo paese. Intanto sulla decadenza di Silvio Berlusconi si è pronunciato il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Sabrina De Camillis. Ride bene chi ride ultimo, ha detto la De Camillis subito dopo la notizia del voto della Giunta per le elezioni del Senato e festeggiamenti dei moderni comunisti. Ha proseguito poi il sottosegretario. Finiranno presso perché Silvio Berlusconi parlamentare o no rimarrà in campo e vincerà le prossime elezioni. Cambiamo argomento perché si è tenuto presso la sede di Confindustria Molise il workshop dedicato alle novità sul nuovo programma quadro di ricerca e innovazione denominato Horizon 2020, forte sostenitore del progetto l'onorevole Aldo Patriciello che ha evidenziato interessanti di novità e le opportunità per le piccole e medie imprese molisane. Vediamo. Horizon 2020 è il nuovo programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020 presentato nel corso del workshop organizzato da Confindustria Molise. In un periodo di congiuntura economica particolarmente sfavorevole diventa necessario investire sulla competitività industriale attraverso un insieme di iniziative che aiutino le piccole e medie imprese a colmare il divario tra ricerca e mercato, come sottolineato da Mauro Natale, presidente di Confindustria Molise. Questo programma è molto interessante soprattutto per la nostra regione perché dà possibilità alle piccole e medie aziende di poter partecipare ai bandi comunitari sulla ricerca e innovazione che generalmente viene fatta dalle grandi aziende. Forte sostenitore del progetto, l'europarlamentare Aldo Patricello, che ha sottolineato l'importanza della creazione di sinergie tra Horizon 2020 e le altre politiche comunitarie, oltre alla necessità di favorire il settore della ricerca e dell'innovazione nel contesto regionale. Questa è una grande opportunità perché l'Europa ha inteso intensificare il fondo sulla programmazione 2014-2020. Rispetto ai 7 anni precedenti ci sono 40 miliardi in più. Tutti destinati alla ricerca, all'innovazione tecnologica, alle piccole e medie imprese. Abbiamo preferito investire molto sulla PMI perché ci rendiamo conto che le PMI sono nel nostro paese, in Italia soprattutto e al sud ancora di più, il tessuto portante dell'economia. Allora alle piccole imprese si rivolgono le migliori e le più grosse opportunità. Chiaramente per fare questo significa che dobbiamo incentivare la conoscenza, accompagnare le aziende in Europa, cercare di portare l'Europa sul territorio, cosa che stiamo facendo questa sera a Campobasso, perché attraverso la conoscenza di questi programmi e ancora di più in anticipo, perché il programma partirà da gennaio 2014, noi coglieremo quell'opportunità che l'Europa ha messo in campo per rilanciare l'economia in Italia ma in tutto il continento europeo. È una grossa ed importante opportunità che vogliamo cogliere. E intanto grazie alla sottoscrizione dell'accordo quadro tra la Regione Molise e le parti sociali per la prima volta è stato deciso di estendere a tutti i settori lavorativi l'accesso alla Cassa Integrazione e Mobilità Inderoga. In riferimento all'ultimo scorcio dell'anno 2013, a renderlo noto è stato l'assessore al lavoro Michele Petraroia che ha fatto sapere come potranno richiedere la Cassa Integrazione Inderoga il personale dipendente di aziende collocate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato. La domanda di concessione dei trattamenti deve essere però presentata entro e non oltre il 16 dicembre 2013, diversa la situazione relativa alla mobilità inderoga per la quale è stato eliminato il vincolo precedentemente legato alla soglia Ise ed autorizzata. Spostiamoci ora a Isernia dove in arrivo una boccata di ossigeno per le imprese e i fornitori che dalla provincia a Pentra vantano svariati crediti per opere e servizi forniti all'ente mai pagati grazie ai 900 mila euro del mutuo già contratto con la Cassa Depositi e Prestiti e a breve saranno saldate le fatture emesse nel 2012. Vediamo. Sono in arrivo buone notizie per gli imprenditori e fornitori che vantano crediti dalla provincia di Isernia perché presto verranno saldate le fatture del 2012 emesse per alcuni lavori effettuati per conto dell'ente. Con la registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto emanato dal Ministero delle Economie e delle Finanze è arrivato infatti il via libera all'anticipazione al 2013 della seconda tranche di pagamenti dei debiti arretrati degli enti locali. A breve non più l'anno prossimo gli enti beneficeranno di un miliardo e 800 mila euro nelle casse della provincia di Isernia. Arriveranno mediante il mutuo già contratto con la Cassa Depositi e Prestiti 900 mila euro fondi che l'ente di via Berta potrà utilizzare da subito senza dover aspettare il 2014 cosa questa che permetterà quindi di pagare entro quest'anno tutte le fatturazioni emesse al 31 dicembre 2012. A tal fine infatti è stata già inviata la Cassa Depositi e Prestiti la richiesta per l'erogazione di questa somma. La provincia di Isernia ha potuto beneficiare del finanziamento grazie alla presentazione effettuata entro lo scorso 30 aprile da parte dell'amministrazione provinciale e dei dirigenti di tutta la documentazione richiesta nel decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze numero 35 dello scorso aprile. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Luigi Mazzuto che già durante la conferenza stampa dei giorni scorsi aveva annunciato l'imminente sblocco di altre somme per il pagamento dei crediti arretrati vantati dalle aziende che hanno effettuato lavori per conto del lento fornito bene i servizi. Abbiamo una possibilità di differire quello che è il patto di stabilità e per cui questo fatto ci consente meno male di mettere in campo insomma quindi di dare anche il giusto dovuto alle imprese che sono impegnate e che vandano crediti nei confronti della provincia. Per le imprese noi dobbiamo rispettare assolutamente il patto di stabilità e credo che insieme alle imprese noi vogliamo produrre e abbiamo prodotto anche delle azioni perché vuol dire il patto di stabilità ci consentisse o venisse quantomeno rivisto per quello che riguardava appunto voglio dire i crediti delle imprese stesse. Non a caso noi abbiamo aderito a quello che abbiamo risposto a quello che era il decreto del governo Monti circa la certificazione di credito. Ed è stato anticipato al 16 ottobre invece il pagamento del 50 per cento dei contributi comunitari agli agricoltori. Tale atto risulta quanto mai opportuno. Hanno fatto sapere i dirigenti della Coldiretti Molise in un momento di grande carenza di liquidità in cui tra l'altro le imprese agricole molisane sono ancora in attesa di ricevere i risarcimento per i danni subiti dall'anomala siccità del 2007 e i fondi per la ricostruzione del sisma del 2002. La tempistica dell'anticipazione dei pagamenti PAC hanno concluso coincide con l'inizio della nuova campagna agraria per la quale i coltivatori dovranno anticipare tutti i costi di produzione in attesa del raccolto e della sua collocazione sul mercato. E adesso la cronaca perché sono ai domiciliari due giovani di Campobasso che la scorsa notte si sono introdotti ben due volte in un'attività commerciale di via Ferrara cercando di portarsi via dei panini senza pagare. Vediamo. Hanno 18 e 22 anni due giovani incensurati che la scorsa notte hanno tentato di rapinare il negozio di kebab in via Ferrari a Campobasso. Era circa l'una di notte quando i due ragazzi sono entrati nell'esercizio commerciale per chiedere che gli venisse servito un panino senza pagare. Scappando subito dopo aver notato che lo stesso titolare del negozio aveva allertato i carabinieri. Una volta giunti sul posto gli uomini dell'arma si sono messi alla ricerca dei due giovani che però nel frattempo erano tornati nel locale. Uno di loro estraendo una pistola scacciacana intimava al gestore di consegnargli il denaro contante, soldi che però il titolare dell'esercizio commerciale proprio non aveva in cassa. A quel punto mentre i due chiedevano che quantomeno gli venisse preparato un panino i militari dell'arma rientrando nel negozio li hanno beccati impedendogli di fuggire. La tentata rapina è stata definita dagli inquirenti come una vera e propria bravata che in città non deve destare però alcun tipo di allarmismo. Ma è un caso isolato avvenuto a quell'ora di notte e torno a ripetere la città comunque presidiata dalle forze dell'ordine i carabinieri svolgono un servizio di prevenzione soprattutto nei luoghi di aggregazione e anche nelle zone periferiche. Un episodio isolato che secondo il capitano Roberto Petroli che dal 30 agosto scorso alla guida del comando della compagnia carabinieri di Campobasso non deve far preoccupare chi vive in una regione ancora tranquilla come il Molise. Mi sembra una realtà tranquilla dove tanto la gente è serena e rivolta al rispetto della legalità e dove poi le forze dell'ordine contribuiscono al mantenimento di un ordine e di una sicurezza pubblica. Paura e sgomento invece sempre a Campobasso nel parcheggio del centro commerciale Il Pianeta dove un'automobilista ha investito un passante intento ad attraversare la strada sul posto subito i sanitari del 118, gli uomini della polizia municipale e della squadra mobile di Campobasso per fortuna solo tanto panico ma nessuna ferita rilevante per il malcapitato che però è stato comunque trasportato all'ospedale Cardarelli di Campobasso per tutti gli accertamenti di rito. Una vera e propria piantagione di marijuana è stata scoperta alla periferia di Agnone a trovare 19 arbussi ben occultati in una zona boschiva ai carabinieri del comando provinciale di Isernia. Secondo gli inquirenti è molto probabile che lo superfacente una volta essiccato era destinato all'attività di spaccio in varie località della provincia fruttando svariate migliaia di euro. Le piante di marijuana sono finite sotto sequestro mentre sono ancora tuttora in corso le indagini per risalire all'identificazione dei responsabili. E rimaniamo a Isernia dove il Movimento 5 Stelle ha denunciato uno spreco di denaro pubblico uno sperpero che si aggira sui 2 miliardi delle vecchie lire riguardanti un'opera terminata più di 10 anni fa e mai entrata in funzione. Stiamo parlando del terminal bus di Contrada Le Piane. Sentiamo. Era il 1996. L'allora sindaco di Isernia, Giuseppe Caterina, chiese e ottenne un finanziamento per realizzare il terminal bus di Contrada Le Piane. L'idea era quella di portare gli autobus urbani ed extraurbani fuori dal centro abitato. I lavori iniziarono e terminarono alla fine degli anni 90. Passo al collaudo. Il progetto, insomma, era pronto per decollare. Occorreva soltanto reperire le navette per collegare il centro di Isernia al terminal e un esercente a cui affidare la gestione di questa struttura. Invece non venne neanche inaugurato. Nel 2002 il neosindaco, succeduto a Caterina, Gabriele Meloji, abbandonò quell'opera per realizzarne un doppione. Il terminal, che ora si trova nei pressi della stazione, è intitolato Francesco Martino. Eppure, per l'originale, sono stati spesi circa 2 miliardi delle vecchie lire. E guardate ora che resta, dopo 13 anni, regna il degrado e viene utilizzato soltanto da appassionati di jogging. E nel pomeriggio, tra una corsa e un'altra, anche dagli autisti dei pullman per la siesta. Qui la denuncia dei 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha cercato di denunciare e sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a queste circostanze. E una struttura come questa, completamente abbandonata, è uno scempio che non è più sostenibile. Un'area così ampia, che potrebbe trovare nuova vita, non può essere lasciata in queste condizioni. Qui possiamo pensare che possa sorgere un'attività ricettiva, un'attività culturale, un parco giochi per bambini. È possibile pensare magari al posizionamento di docce per i tanti atleti che frequentano questi luoghi giornalmente. Quindi ci sarebbero una serie di iniziative che la nuova amministrazione comunale potrebbe mettere in campo per recuperare l'ex terminal degli autobus. Chi dovrebbe rimettere in piedi questa struttura? Certamente l'amministrazione comunale potrebbe affidare in gestione a cooperative sociali piuttosto a cooperative di giovani disoccupati, che magari si farebbero carico della ristrutturazione anche con un cofinanziamento comunale. E naturalmente avrebbero la possibilità di generare ricchezza per questo territorio. Cambiamo argomento perché il presidente dell'ordine dei giornalisti del Molise Antonio Lupo ha risposto alla nota stampa diffusa dal sindacato dei giornalisti nella quale per rispondere all'eccessiva domanda di lavoro dei 630 giornalisti iscritti all'ordine si auspicava di cancellare dall'albo tutti coloro che non esercitano più la professione per l'ordine. Ha sottolineato il presidente Lupo, anche chi è disoccupato ha diritto di restare iscritto anche perché in un clima simile, con un'offerta di lavoro sempre più carente. Per i meno fortunati la beffa si aggiungerebbe al danno. Primo incontro in comune a Campobasso con il personale docente per organizzare l'iniziativa promossa dall'assessore Nicola Scefarati il progetto nasce con l'obiettivo di divulgare presso i giovanissimi una corretta educazione digitale. Vediamo. Divulgare presso i giovanissimi una corretta educazione digitale. Questo l'obiettivo è il progetto messo in campo dall'amministrazione comunale di Palazzo San Giorgio unitamente al partner AFA System. Un'iniziativa credo importante che vede al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale le scuole un primo incontro che viene fatto oggi insieme ai tecnici di AFA System per cercare di utilizzare a meglio quelle che sono le infrastrutture tecnologiche che il comune ha messo a disposizione delle scuole. Le abbiamo potenziate, le continueremo a potenziare nei prossimi mesi e immaginiamo l'opportunità di abbinare all'innovazione tecnologica e quindi a tutta una serie di nuove possibili servizi che vengono offerti poi ai ragazzi direttamente dai presidi anche una serie di iniziative che possono poi essere legate alla collaborazione sempre più costruttiva tra l'amministrazione comunale e il nostro partner tecnologico che è la società AFA System. Un percorso di formazione e informazione dunque teso anche a valorizzare e implementare le infrastrutture tecnologiche degli istituti scolastici. Sanno interessate tutte le scuole, le scuole alimentari e medie per usare una vecchia dicitura. Sicuramente tutte noi abbiamo in questi anni migliorato il collegamento infrastrutturale intendo un'infrastruttura tecnologica delle reti sia wireless sia fibre ottiche dei plessi scolastici. Oggi nelle scuole stesse la tecnologia viene sempre più utilizzata dai registri informatici, dalle lavagne LIM. Quindi è necessario che il comune insieme al partner tecnologico offra delle soluzioni innovative in linea con i tempi in modo che le scuole stesse possano offrire un servizio sempre più moderno ai propri ragazzi. Un'iniziativa che servirà anche a fare chiarezza sui nuovi strumenti a disposizione delle scuole come il registro di classe elettronico e le lavagne interattive multimediali. Bibliopride 2013 è invece l'iniziativa promossa in occasione della Giornata Nazionale delle Biblioteche alla quale ha aderito anche la Biblioteca Provinciale Pasquale Albino di Campobasso. Sentiamo. Per il secondo anno consecutivo le biblioteche italiane scendono orgogliosamente in piazza con il Bibliopride 2013 per celebrare la Giornata Nazionale delle Biblioteche. L'iniziativa punta a rilanciare l'attenzione su un servizio pubblico particolarmente importante per il tessuto culturale dell'intero territorio nazionale, come confermato da Carmine Aceto. La biblioteca è anche un luogo, anche e soprattutto un luogo, non solo quello che contiene. Stare in biblioteca, leggere un libro in biblioteca, studiare, passare delle ore in biblioteca significa anche pensare poi, riuscire a pensare in maniera diversa su determinati argomenti perché la biblioteca in sé, come luogo, è una continua fonte di informazioni e di rimandi e di approfondimenti che non può che fare bene alla nostra vita di cittadini. Nonostante la poca attenzione delle istituzioni e i continui tagli finanziari, le biblioteche del capologo molisano continuano ad offrire gratuitamente a migliaia di cittadini un accesso all'informazione e alla cultura attraverso una serie di attività quotidiane che talvolta passano inosservate. Negli ultimi dieci anni c'è stato un taglio del 60% degli stanziamenti a livello nazionale non solo per le biblioteche ma anche per i musei, rientrano tutti in uno stesso comparto. Però nonostante quello forse a volte riusciamo noi qui nelle nostre biblioteche locali a sopperire a queste mancanze grazie alla professionalità, alla passione e all'orgoglio dei bibliotecari che vi lavorano. Da non trascurare le iniziative e i progetti realizzati dalla biblioteca provinciale Albino a cominciare da un saggio che a breve sarà pubblicato su Digitalia, un'autorevole rivista di settore. È un vero e proprio motivo di orgoglio ancora una volta per la nostra struttura perché siamo stati selezionati, scelti per parlare delle esperienze della lettura digitale non solo a altre persone ma soprattutto in un contesto di professionisti dell'informazione bibliotecaria e questo per una struttura di una regione così piccola come quella molisana è sicuramente una cosa che non può passare, non passa inosservata. Dunque diventa di vitale importanza che l'orgoglio di possedere una rete bibliotecaria radicata sul territorio non si fermi ad una singola data ma che cresca in maniera costante. Ed ora apriamo la pagina sportiva perché domani andrà in scena la sesta giornata di campionato Serie D, Girone F, quello delle quattro molisane. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le sfide in questione dove ovviamente spunta l'atteso derby tra Lisernia e il Termoli. Vediamo. La partita delle partite della sesta giornata è quella che vedrà impegnate Lisernia e il Termoli all'Ancellotta in un derby dal sapore particolare a cui le due squadre arrivano con ambizioni e certezze differenti. Lisernia ha finalmente risolto il problema proprietà. Nella giornata di ieri a Napoli Battiloro ha lasciato ed è subentrato De Benedictis. L'ex presidente avrebbe voluto passare la guida della società ad un molisano ma purtroppo ciò non è stato possibile. Mazzullo resta confermato per il momento in panchina e per lui sono pronti già tre rinforzi. Il primo è Picillo ex Aversa, reduce da un'esperienza all'estero in Svizzera. Per la difesa si pensa a Yuri Perrino, classe 1993, ex Avellino e a Castorina ex Licata. La tifoseria bianco-celeste è comunque sul piede di guerra ed entrerà allo stadio solo nel secondo tempo, come protesta nei confronti di una società troppo volubile finora. Area totalmente diversa tira in casa Termoli, dove tutto sommato le cose vanno per il verso giusto. Giacomarro per il tanto atteso derby sta valutando un mini turnover, con Calabrese che dovrebbe prendere il posto di Bojo, al centro della difesa. Anche la rosa potrebbe accomodarsi in panchina, vista la sua difficoltà ad entrare in condizione, dovuta anche dalla sua imponente struttura fisica, che di certo non lo agevola. Al suo posto da metodista potrebbe essere impiegato Mandorino. Il terzo cambio potrebbe essere quello tra Basso e D'Alessio sul versante sinistro. L'Olimpia agnonese sarà impegnata fuori casa contro lo Jesina, sfida in cui la squadra granata sarà chiamata a dare un segno di svolta dopo le ultime due opache prestazioni. Intanto sul fronte difesa, reparto martoriato, dovrebbe arrivare Monaco, ex Casale Monferrato, per prendere il posto dell'infortunato Bianchi. Capitolo a parte è quello del Boiano, ancora senza allenatore. Bonvini è in stand-by e in panchina contro la Vispesaro, andrà momentaneamente il tecnico della Juniores Giovanni Menna. Queste le altre sfide in programma nella sesta giornata. Alma Juventus Fano Fermana, Ancona Matelica, Giulianova Celano, Maceratese Angolana, Re Canatese Civitanovese, Sulmona Amiternina. Il Campobasso Calcio ha invece ufficializzato la collaborazione con altri due sponsor, la Molisana e la Banca Popolare delle Province Molisane. Dopo la Flogas, altri due partner di prestigio sposano la causa del Campobasso Calcio. Diamo il benvenuto alla Molisana che dopo anni torna con il suo storico marchio a caratterizzare le maglie rosso-blu e alla Banca Popolare delle Province Molisane, istituto bancario espressione del nostro territorio. Ringraziamo i nuovi sponsor per lo sforzo fatto per promuovere il calcio nella nostra città. Sono state le parole contenute nella nota del club rosso-blu. Intanto nel weekend si giocherà anche la quinta giornata del campionato di eccellenza. Vediamo nel dettaglio il calendario delle sfide con occhi puntati soprattutto sul Campobasso che potrebbe allungare sul Fornelli in caso di passo falso dei Grigio Verdi sul campo del Pozzilli. Vediamo. Questi i quattro anticipi della quinta giornata di eccellenza. Il Pozzilli sarà impegnato contro il favorito Fornelli. I favori del pronostico sono tutti per i Grigio Verdi ma nel calcio tutto è possibile e la classifica potrebbe essere smentita da una bella prestazione dei padroni di casa. Il Rocca Ravindola se la vedrà contro il Dauna, una gara impegnativa per i padroni di casa che inseguono una vittoria di prestigio. Il sesto campano giocherà contro il Roseto, due squadre che stanno attraversando un buon momento. Infatti sono entrambe nella zona alta della classifica. Il Venafro dopo il cambio di mister giocherà contro la Life, due squadre che hanno bisogno di riscattarsi dopo le sconfitte della settimana scorsa. Queste le altre partite in programma domani. Montenero-Vasto Girardi, Vairano-Santeliana, Gambatesa-Cliternina e Campobasso 1919-Montaquila. Questa è la classifica al momento. Guida il Campobasso 1919 con 12 punti, segui il Fornelli a 9. A 7 ci sono Roseto, Cliternina e Sesto Campano. A 6 il Calcio Dauna, Vasto Girardi, Venafro, Santeliana e Montenero e Gambatesa. A 4 Rocca Ravindola, Alife e Pozzilli. Altrè il Vairano chiude il fanalino di coda Montaquila. Bene tutto, il nostro telegiornale termina qui. Io vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e aver scelto ancora una volta l'informazione di Molise TV. Il meteo è offerto da Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campania 215. Previsioni del tempo per domenica 6 ottobre. Sul Molise, giornata all'insegna del maltempo, con precipitazioni diffuse e anche temporalesche. Temperature stazionarie, nei valori massimi, in aumento nei minimi. Ventilazione tesa di scirocco, con mari generalmente mossi o anche molto mossi a largo. Vediamo ora nel dettaglio le temperature. Campobasso minima 15, massima 19 gradi. Isernia minima 14, massima 21 gradi. Termoli minima 19, massima 22 gradi. Il meteo è stato offerto da... Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campagna 215. Massima 215. Grazie a tutti.